Ho scoperto un po' di più su questi rifornimenti, sono attrezzature della divisione, quindi è importantissimo arrivare prima degli altri. Non possiamo permetterci che i sopravvi... Trasmissioni disturbate, solo comunicazioni a corto raggio. Attenzione, corrente interrotta, backup attivato, sistema riavviato. Grazie a tutti! 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 Elicottero in arrivo! Grazie a tutti! 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 Uscita dall'area contaminata. Uscita dall'area. Tutto quello che ho lo devo abbassagliore. L'elicottero è diretto alla tua posizione. Uscita dall'area. Uscita dall'area. Uscita dall'area. Uscita dall'area. Uscita dall'area. Estrazione completata. Uscita dall'area. 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 Uscita dall'area.